Stà per iniziare, atmosfera splendida sugli spalti, speriamo che anche lo spettacolo sia all'altezza. Ben trovati da parte di Piero Gipardo e Stefano Nava, al quale ha affidato il commento tecnico. Giornata di campionato che sta per avere inizio, partita che promette grandi emozioni. Pronti per questo match di campionato che promette grandi cose, o almeno è quello che si augurano i tanti tifosi presenti allo stadio oggi. E ovviamente ce l'auguriamo anche noi Piazza, no? Cosa siamo qui a fare? Buona l'idea qui, può colpire da lì. E trovano subito il gol che sblocca la partita, partenza a razzo per loro. Sono riusciti a battere il portiere con questa splendida conclusione. Tutto bellissimo, il cross della sinistra ha dosato la perfezione e ovviamente la conclusione dell'attaccante. Un gol da dividero a metà con chi ha fatto l'assist. Cross sfruttato la perfezione con questa girata vincente. Eh sì, Pierre ha saputo liberarsi dalla marcatura avversaria e battere il portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Buonaventura, senza problemi qui il portiere. Check Bonaventura. È in buona posizione. Respinge il difensore. C'è il corner di Bonaventura. Si mette i pugni e allontana. Buono qui il pressing. Concedono il male minore, che è la rimessa laterale. Entrata decisa. Ci sono metri per andare. Vediamo cosa fa ora. Lo vede. Possono trovare il gol del pari. Attenzione. Keylor Navas. Ma non è finita. Attenzione. Ozil. C'è pressing sul portatore di palla. Può avanzare. giocata di qualità per intercettare il pallone. Hanno metri a disposizione. Partono in contropiede. C'è spazio. Riconquista palla. Palla a scavalcare la difesa. Può colpire da lì. Cross sul palo più lontano. Azione incredibile. Il salvataggio sulla linea. E poi il portiere la raccoglie. L'hanno scampata bella qui. Un po' di fortuna ogni tanto. Non guasta. Possesso palla per gli avversari. Palla larga. Cross rivedibile. Palla che è terminata direttamente sul fondo. THB. Jack Bonaventura. Sakai. Muoteng. Ottima visione di gioco qui. Dice di no. Tuffo prodigioso. C'è il corner di Bonaventura. Non si fida. Spazza via di pugno. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Regalano palla agli avversari. Palla che termina in out. Dopo l'ultimo tocco si ripartirà col fallo laterale. Palla giocata sugli esterni. Posizione ideale. Può ricevere una posizione interessante. Grande intervento. Quasi come un gol. Occhio al contrapiede qui. Muoteng. Non va la ripartenza. Muono il recupero difensivo. Recuperano palla. Passaggio fuori misura col pallone che finisce in out. Attenzione perché è pericoloso. Potrebbe crozzare. Prova a calciare. Sicuro qui Navas. Usil. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Arriva il fischio dell'arbitro. Sarà punizione. Buoteng. 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 Occhio alla ripartenza. Cerca e trova il compagno. È in buona posizione. 120 secondi. Il recupero segnalato dal quarto uomo. E vediamo cosa ci riserveranno. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Recupera palla con un contrasto deciso ma corretto. Si chiude il primo tempo. C'è il segnale dell'arbitro. Comincia il secondo tempo. La traiettoria verso il centro. Tiro respinto. Pallone perso. Ha detto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Primo tempo incoraggiante. Il suo ha giocato su livelli interessanti. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscì. Occhio a questo raso. Palla sul palo e poi gol. Palla che è carambolata sul palo prima di finire in rete. Colpo da bigliato dell'attaccante con palla in buca d'angolo. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. Cambio dunque. È un modo per dare un messaggio anche psicologico ai giocatori a cazza del parete. Il punteggio che è cambiato ora conducono per quei reti a zero. Perdono palla banalmente. Buoteng. Prova in porta. Efficace qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi. C'è il corner di Buonaventura. C'era solo la forza in questo tiro. Pallone che è uscito anche se non di molto. Non era male come tentativo anche se da quella distanza avrebbe dovuto quantomeno inquadrare la porta. Legge bene la traiettoria qui. Buoteng. Ribatte il difensore. Palla consegnata agli avversari. Attenzione a Buonaventura. Colpito il pallone dal difensore. Il portiere controlla la conclusione senza difficoltà. Ozil. Posizione ideale. La spazza via. L'allenatore che decide di arretrare il baricentro della squadra. Vuole far uscire. Può colpire da lì. Allora in gioco. Attenzione. I tifosi scatenati dopo lo scampato pericolo hanno rimediato a un loro errore che poteva costargli un altro gol. Ci prova il tecnico ad arrivare al pareggio con questo cambio. Una mossa tattica. Il tentativo di riaprire la gara. Può ricevere una posizione interessante. Possesso palla per gli avversari. cross sprecato qui. Non c'è nessuno. Arbitro dice che fallo. Si ripartirà dunque con una punizione. C'è dunque la sostituzione. C'era bisogno di energie nuove evidentemente. Poteva fare meglio qui. Vero Stefano? Beh non ci ha fatto un figuro. Né questo si girata di testa che meritava miglior fortuna. Buona fin qui la sua prova. Sicuramente fra i migliori in campo. Ha calciato diverse volte in porta. Trovando anche i golli in un'occasione. E se non lo marcano più stretto. Potrebbe anche non essere l'unico oggi. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta. È il momento giusto Pier. Occasione. Ed entra in rete. Gol! Grande conclusione ravvicinata. Una gran bella rete. Rivediamo il gol che aumenta ulteriormente il margine di sicurezza. Beh li stanno umiliando Pierluigi. È un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Lettura efficace lungo la corsia. Va con il possesso palla. Occhio al pallone filtrante. Peccato era un buon cross. Non sono riusciti a sfruttarlo a dovere. Vado a bordo campo. Allora da Matteo Barzaghi per sapere a questo punto quanto manca alla fine. Mancano ancora dieci minuti allo scoccare del novantesimo. Bene così. Grazie Matteo. Attenzione pericolo. Super intervento qui. Era fra i giocatori più interessanti da seguire. Direi che ha tenuto fede alle aspettative con una buona prestazione. C'è il corner di Bonaventura. Da lì può crossare. Brutto passaggio e pallone regalato. Siamo entrati negli ultimi cinque minuti di gara. Sergi Samper. Buona avventura. Buon tikitaka quest'oggi. Fin qui. Attenzione. Tutto solo. Ed è l'ente. Dopo una splendida giocata si ritrova davanti al portiere. Non si può fallire da lì. L'ennesimo gol di una partita praticamente perfetta dal punto di vista offensivo. Fantastica. Perfetta. Niente da dire. Risultato che si fa pesante in questi minuti finali. Spesso i pronostici nel calcio sono fatti per essere smentiti. Soprattutto quando c'è una distanza che sembra incolmabile. Direi che non è questo il caso. Tutto sta andando secondo le previsioni. Oggi c'è solo una squadra in campo. Shansbury cross. Boateng. Regalano palla agli avversari. Palla colpita troppo forte. Nessun problema per il portiere. Ed eccolo il fischio finale. Partita a senso unico. Risultato che non lascia molti dubbi. Una sola squadra in campo. Una vittoria.